Allora vi dicevo di queste dichiarazioni abbastanza clamorose di De Laurentiis, ve la faccio vedere Due minuti lì nella regina, è tra poco Would you ever ever say that, old friend, three years ago consecutive weather reports Well-oh-oh, well-oh-oh-oh Well-oh-oh, well-oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.